Un V8 benzina e un motore elettrico, 445 cavalli. Le prestazioni di un V12, i consumi e le emissioni di un V6. Il sistema più avanzato di sicurezza pre-crash. Silenzio ed emissioni zero in modalità elettriche. Nuova Lexus LS600 Hybrid. Prestazioni, tecnologia e rispetto per l'ambiente conquistano risultati fino ad oggi impensabili. Nuova LS600 Hybrid. Capolavoro Lexus. Grazie per la visione.